Sono Giovanni Paolo Liccheri, produttore di produttore di GMP, Produttore Generac Mobile, in Italia. Qui abbiamo oggi il VT Hybrid, che è una torre luce che è designata per il mercato europeo e più e più i clienti, anche qui negli USA, necessitano una soluzione verde. Questa è la proposta che presentiamo oggi per l'E-Ray Show. È una torre luce equipata con un engine single cilindro, YANMAR, con un alternatore di lente, designato per la torre luce. Il sistema può proporzionare abbastanza di potere per rinforzare un pacco di batteria e servire il potere per la luce. Nelle unità sono installati 4 150 W LED light, efficienza alta, e il sistema è equipato con un pacco di batteria, con batterie tecnologiche di AGM. con un'autonomia di 7,5 ore. Quindi, quando il sistema ha richiesto le batterie, il cliente ha 7,5 ore. Quindi questa soluzione è molto utile se il cliente ha bisogno di utilizzare il sistema all'interno o all'interno. Quindi questa è una soluzione molto importante per il cliente. abbiamo un pannello di controllo semplificato che può operare in modi diversi. Modi manuali, modi manuali, modi manuali e modi timers, con autonomia di 4 e 8 ore. Il sistema può essere rechargato da un'auto o dalla grida. Il sistema può riconoscere automaticamente il potere. sull'auto o dalla grida. Nella unità è installata un mastro idraulico che può essere estenduto con il botto. Si può rotare per 340 gradi e si è equipato con una configurazione di flutte di flutte che è un design speciale sviluppato in Generac per soddisfare un'auto o dalla grida di configurazione per il cliente. Quindi possiamo orientare il LED light in una posizione differente in modo da con le necessità del cliente.